Per lavorare nel settore della ristorazione servono competenza, professionalità e rispetto delle regole. L'abusivismo è l'esatto contrario di tutto questo. Lo dice la Confcommercio Fano per voce della sua presidente Barbara Marcolini. Se la situazione legata all'abusivismo nel comparto della ristorazione ha raggiunto a livello nazionale toni esasperati, sul territorio delfanese e circondario il contesto è altrettanto drammatico. È assolutamente evidente, sottolinea Marcolini, come questo fenomeno esploda in maniera esponenziale, soprattutto nel periodo estivo dove si assiste al proliferare di cene tra amici in case private o in attività economiche in cui non è autorizzata la somministrazione realizzate da chi svolge ormai questa attività in modo continuativo, in forma di vero e proprio lavoro, ma in maniera del tutto abusiva. Logicamente è tutta clientela che in maniera sistematica viene a mancare poi al ristoratore perché non parliamo più di una cena fatta ogni tanto, ma si parla di un lavoro sistematico che viene fatto soprattutto nei weekend dove poi il ristoratore potrebbe lavorare molto bene. Ricordiamoci che a maggio poi è stato anche piovoso, quest'anno soprattutto, e logicamente quindi sono tutte economie che poi vengono a mancare al ristoratore. Ristoratore che logicamente paga le tasse che segue tutte le regole, che nella ristorazione sono tante, quindi non è che si può improvvisare perché la ristorazione ha delle regole ben precise dal punto di vista igienico-sanitario, dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista del personale. Quindi purtroppo il ristoratore è quello che deve attenersi a tutte queste regole, mentre invece vengono organizzate tutte queste cene in giro in ogni dove e logicamente non rispettano nessun tipo di regola, ma soprattutto quella igienico-sanitaria che è la più importante. Come contromisure da mettere in campo, Fipec Confcommercio ha ritenuto di dare il via ad una importante campagna nazionale dal titolo Per non mangiarsi il futuro, con cui si è impegnati ad assumere tutte le iniziative politiche e giuridiche a garanzia del buon funzionamento del mercato, a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori. La ristorazione purtroppo non è che si può inventare, ci vuole professionalità, ci vuole competenza e ci vuole un rispetto proprio delle regole.